Marco Polone Revisore Revisore di Google Giulia Revisore Ciao ragazzi, ciao a tutti! Grazie a Flavia che ci hai già fatto un'ottima introduzione del mio talk. Dunque, sarò molto breve, comincerò dalla pre-storia nel senso informatico del termine. Non temete Claudio, non aver paura, finisco nei termini previsti. Dunque, cominciamo dicendo che quando ero ragazzino era molto raro trovare qualcuno che ne sapesse di informatica. E dunque, come me e penso molti altri, hanno cominciato a cercare di capirci qualche cosa, da soli, nella propria stanzetta. Ricordo ancora benissimo la prima esperienza. Avevo circa dieci anni. Mio padre mi aveva regalato un computer. Un computer che io, boh, non sapevo ancora cosa fare. Allora ho preso, sono andato in cameretta, ho preso un libro e ho cominciato a copiare per due giorni, senza interrompermi. Ho cominciato a copiare, scrivere, scrivere qualche cosa. Dicesi, scrivere codice. E dopo due giorni, magicamente, ho visto un oggetto comparire sullo schermo che prendeva il vuole. E il vuolo. Era fantastico. E il vuolo. Non si fermava più. Ho dovuto staccare la spina per riprendere il controllo del computer. È stata una cosa fantastica. Quella cosa mi fece imparare due cose. Uno, che il computer è stupido, con rispetto parlando. Bisogna spiegargli tutto, passo passo. Una cosa alla volta. E due, io non è che ero più furbo. Ero soltanto, dovevo soltanto metterci un po' del mio. Un po' di ragionamento, un po' di logica. Strutturare il pensiero. E questo era tutto. E questo mi è semplicemente piaciuto. E ho deciso che la nostra vita insieme sarebbe stata molto lunga. Perché ci sono e c'erano tante cose da fare. Infatti, come ha detto anche prima Flavia, ci sono moltissime persone oggi che sono appassionate di informatica. bimbi, adulti, adolescenti, e che ne devono utilizzare tutti i giorni. Che lo si voglia o no. Smartphone, tablet, portatili, computer, qualunque cosa. Fa parte della vita. Non è pure mero pannaggio dei pochi addetti ai lavori. Questo fa parte di tutti, in tutti i mestieri. Tutti gli artigiani hanno bisogno di un computer di fianco. Dunque, c'è chiaramente qualche cosa che può fare paura. Può far paura il fatto che i nostri ragazzi siano prigionieri di questa tecnologia, passivi di questa tecnologia. È lecito domandarselo. Ma la risposta è semplice. No. Fa parte dell'evoluzione della vita. Fa parte dell'evoluzione della tecnologia. Ogni volta che c'è una tecnologia nuova, praticamente bisogna soltanto imparare a capirne qualche cosa. Perché l'unico modo per farlo è insegnare ai nostri ragazzi e a noi stessi a utilizzare la tecnologia, a farla parte di tutti i giorni, a essere parte attiva di questa, a capire come funziona. E dunque, vabbè, io ci ho provato. Facile, non lo so. Comunque, ci ho provato. Ho fatto la mia prima esperienza, appunto. Ho preso mio figlio, quello più grande. Ho aspettato che fosse abbastanza grande, che sapesse leggere e scrivere, che avesse un minimo di competenze matematiche, insomma, qualche minimo ragionamento. E dunque ho preso il computer, l'ho messo davanti a me, e ho preso mio figlio, l'ho messo di fianco a me. E ho cominciato a sbatacchiare sulla tastiera. E ogni tanto, guardandolo, mi dicevo, secondo me non capisci, ma fa niente. Allora intanto parlavo, gli spiegavo quello che facevo. Com'è finita? Benissimo. Dopo un'ora avevo implementato una funzione che faceva la simulazione del lancio di monetine e faceva la rappresentazione grafica della probabilità che uscisse croce o testa. Fantastico, mi sono divertito come al solito. Mio figlio? Benissimo, anche lui dormiva. Come un angioletto, sull'angolo del tavolo. A quel punto, vabbè, mi sono detto, peccato, mio figlio, proprio mio figlio, non gli piace le informatiche. Vabbè, faremo qualcos'altro nella vita. C'è tante cose da fare, non è un problema. Però poi alla fine ci ho ripensato. Ho detto, ma non è che per caso sono io che ho utilizzato il metodo sbagliato. Ho detto, magari ci vuole qualcosa di un pochino più pedagogico, qualcosa che si approcci un pochino di più ai ragazzi. E allora ho cominciato a cercare. Prima posto dove sono andato è stata a scuola. Naturalmente era un po' lontano anni luce da quello che mi aspettavo di un qualcosa computer-oriented, qualcosa che insegnasse mio figlio a essere pronto alla tecnologia, insomma, che diventasse amico della tecnologia. E attivo, parte attiva di questa. Dunque, dopo di questo, continuiamo a cercare. Era il 2012, non molto tempo fa, e a quell'epoca abitavamo in Irlanda. E venne a conoscenza di un movimento, attualmente una fondazione, No Profit, che si chiama Coder Dojo, che forniva, che dava, faceva, corsi gratuiti ai ragazzi di informatica, di programmazione. Fantastico, non ho esitato un attimo, ho preso i miei figli, più un po' dei suoi amici, dei loro amici, e siamo andati, ho cominciato a parteciparvi. E all'inizio c'era qualcosa di strano. Un metodo che secondo me era un pochino anarchico, diciamo. Non c'era un sapientone davanti alla lavagna a dettare nozioni e a dire ragazzi, ora schiaccia il tasto secondo in basso a sinistra e quello in alto a destra. No, non funzionava così. Funzionava in un modo diverso. Ve lo spiego utilizzando le regole che Barbara, di Coder Dojo Milano, ha eccezionalmente trascritto. Allora, Coder Dojo si basa su un paio di regole, attualmente sette, chiamiamo sette regole d'oro. Uno è impara facendo. Ok, learn by doing. Allora cosa succede? Prima differenza dal mio approccio è quello che ho visto a Coder Dojo. È il figlio che è davanti, è lui che è davanti al computer. Ok, è lui che si mette davanti e comincia a sbatacchiare la tastiera. Qualunque cosa faccia. Non importa, perché il bambino è competente. Lui ha le sue competenze. O quantomeno, lui parte dalle competenze che ha. Noi dobbiamo partire dalle competenze che i ragazzi hanno, permettergli di crescere e partire da quelle. Ok, loro sanno già quello che devono fare, in qualche modo. Poi, naturalmente, a questo punto non siamo noi che gli stiamo davanti, ma gli stiamo di fianco e li seguiamo. Ok, gli insegnanti, i cosiddetti mentori, non sono davanti, gli sono di fianco e girano intorno. E si cerca anche di incoraggiare, a limite, i ragazzi, quelli di fianco, quelli magari più anziani, quelli che sono già venuti da diverse volte, a spiegargli come funzionano le cose. Questo è semplice, perché nella scala dell'apprendimento la parte più importante è quando incominci a insegnare. Ok? Prima ascolti, poi cominci a fare, e quando insegni impari di più, ancora di più. Perché questo è importante. Poi gli errori ci piacciono. I ragazzi hanno il diritto di sbagliare. Come in tutte le materie, come gli artigiani, è la pratica la cosa più importante. La tecnologia non è nulla di diverso. Bisogna soltanto praticare, perché bisogna mettersi lì, scrivere e fare. Se si sbaglia, poi non è come l'artigiano del legno. Voglio dire, basta un piccolo trucco. Control-Z, ok? Tornate indietro e rifate. Non è un problema, è facile. La tecnologia è facilissima, per cui fidatevi. Dopodiché, è chiaro, non dire no. Pensiero positivo. E' inutile dire a un ragazzo, ma no, te non sei capace. No, guarda, secondo me potresti fare meglio, al limite. Oppure dammi una mano che lo facciamo meglio insieme. È un approccio completamente diverso, molto strano, si allontana molto da quello a cui siamo abituati. E soprattutto incoraggiamo, ok? I ragazzi, come dicevo, hanno delle competenze, ognuno ha le sue. Per cui qualunque passo faccia, che lo faccia bene, piccolo, grosso, che sia, fa niente. Prendiamolo positivamente e incoraggiamolo a continuare su quella strada. E soprattutto, cosa più importante, divertiamoci, ok? Impariamo divertendoci. Ok, e soprattutto utilizziamo quello che è uno strumento un pochino più adatto. Effettivamente anche qua, nella mia esperienza, io ho preso il mio bel editor di testo informatico, quello che utilizzo tutti i giorni, e era un pochino ostico per un primo attacco. Invece ci sono questi tool. Questo, per esempio, è chiamato Scratch, che è stato fatto più di vent'anni fa, attualmente, comunque dall'MIT di Boston. Ed è un tool estremamente grafico, ma nulla toglie all'importanza e al metodo in cui si creano le applicazioni. Cioè, il ragionamento informatico. È come un Lego. Ogni pezzo ha un suo perché. E i ragazzi imparano automaticamente a metterli insieme, a comporli, e in questo modo compongono un programma. E il fatto che abbiano anche di fianco subito un ritorno grafico di quello che vede gli permette immediatamente di capire quello che hanno fatto. Se hanno sbagliato, se hanno fatto giusto, e cosa devono fare. E questo, piano piano, iterativamente, gli permette di costruire il loro programma. Dunque, questo è stato... Ah, sì, prima di arrivare a Cododocitalia, chiaramente, cosa è successo? Io un anno fa ho preso, sono partito dall'Irlanda, sono venuto in Italia, c'erano già dei Coder Dogi in Italia, ce ne erano parecchi, però non c'era nella città qui a Trento, dove mi ero trasferito. Allora, avevo questo desiderio che i miei ragazzi potessero continuare a partecipare a Coder Dogi. E dunque ho cominciato a chiedere in giro e immediatamente, veramente, è stata una cosa facilissima, un entusiasmo incredibile, in pochissimi giorni abbiamo creato Coder Dogi o Trento. Ok? Abbiamo trovato la passione e l'aiuto, qui in Trentino, di adulti e giovani, piccoli e grandi, che ci hanno aiutato. E in pochi mesi siamo riusciti a creare cinque centri che più o meno ogni sabato, alternandosi, danno dei corsi ai ragazzi, qui soltanto a Trento ed intorno. E per cui questo è il nostro contributo, è un movimento che in Italia si sta aprendo sempre di più e si sta allargando molto velocemente, perché è importante. E come ha detto appunto prima Flavia, abbiamo avuto anche la possibilità, un mese esatto fa, era il 22 di ottobre, siamo stati, o il 17 forse, qualche giorno prima, comunque un mese fa, siamo andati alla Camera e al Miur, perché abbiamo fatto una sessione, normalissimo, con i ragazzi dentro la sala della regina, e ci siamo divertiti molto, con i parlamentari. E un'altra cosa molto importante che ho imparato, perché questo movimento è anche un movimento globale, un movimento che si sta espandendo nel mondo, però nonostante la sua globalità, si focalizza sulla località, sull'ecosistema locale, è una rete, per cui nonostante la sua globalità, tutto si svolge qua, all'interno del nostro territorio, con le competenze che troviamo nel nostro territorio. Perché come diceva Einstein, praticamente, una cosa importante è la diversità, e questa è fatta dal territorio. Einstein diceva, ognuno di noi è un genio, ma se tu giudichi una persona, anzi, un pesce, da come si arrampica su un albero, questo crederà per tutta la sua vita che è uno stupido. Perché questa è una cosa importante. Se vogliamo che i nostri figli, oggi, imparino a utilizzare la tecnologia in maniera attiva, e come dice Carmelo di Coder Dojo Bologna, Coder Dojo trasforma i ragazzi, da utilizzatori passivi della tecnologia, a supereroi, non dobbiamo far altro che dargli i superpoteri, io dico. I superpoteri vengono dalla società nella quale viviamo, nell'ecosistema. Per cui, dobbiamo fare in modo che poter preparare i nostri ragazzi, per quando entreranno nel mondo del lavoro, che abbiano le competenze giuste, e le competenze giuste, oggi, ce le hanno soltanto le persone che utilizzano la tecnologia, per davvero, tutti i giorni, per lavorare, per vivere, per passione. Perché la scuola, non possiamo aspettare la scuola che avanzi in questo tema. Dunque, dobbiamo utilizzare tutte le strutture e cercare di creare sempre di più nuovi spazi, tipo Akerspace, Impact Hub, Fab Lab, Science Fair, ma anche la famiglia stessa, i centri di ricerca, e le aziende locali, che devono contribuire a condividere e collaborare con le conoscenze. Dunque, concludo qui. Concludo dicendo che naturalmente è importante imparare ad imparare, divertendosi, possibilmente. Perché è questo che ho imparato, che è bellissimo poter, non si crea niente dal nulla, ok? Non si crea dell'entusiasmo senza, senza, dei ragazzi che imparano divertendosi. E per cui che i ragazzi, pratica, ci promettono una foresta di creatività. Dunque, vi aspettiamo tutti al prossimo Coder d'oggi, e perché no, in qualunque Italia, piccoli e grandi che siate. Grazie a tutti. Grazie a tutti.